Buonasera e ben ritrovati amici telespettatori con il consueto Angolo del Vero Volle, appuntamento dove andremo sempre a analizzare il weekend delle squadre del Consorzio Monzese, anche se dobbiamo registrare la pausa per Pasqua delle Saugella Team Monza, mentre si è conclusa la regular season per quanto riguarda Chebanca Milano nella Serie A2 Sustainium, quindi si parte con i play-off, Chebanca Milano è settima classificata, quindi incontrerà la quarta che è Città di Castello e soprattutto la squadra che hanno incontrato domenica al centro pavesi. Intanto andiamo subito a presentare gli ospiti, un gradito ritorno a Gabriele Robbiati, ciao a tutti, e preparatore atletico delle Saugella Team Monza Stefano Magni. Buonasera. Giobbe, andiamo subito ad analizzare quella che è stata la partita di domenica, avete vinto contro Città di Castello, anche se poi alla fine per quanto riguarda la classifica non si è mossa, eravate settimi, siete rimasti settimi come Città di Castello è arrivata a quarta, ma prima di andare a vedere poi come saranno i play-off, andiamo a analizzare questo 3-2 casalingo. Ma sicuramente è stato un buon risultato in vista dei play-off, noi era una partita che sì, poteva ancora dichiarare qualcosa per quanto riguarda la posizione in classifica, però non ci avrebbe cambiato chissà quanto dal punto di vista mentale. Certo è che è bello affrontare i play-off, andando a affrontare i play-off contro una squadra contro la quale si è vinto l'ultimo campionato, si sa di avere qualche carta da giocare. Ecco, infatti appunto, visto la griglia, a un certo punto durante la partita domenica eravate anche quasi quinti, perché visto i risultati di Sora che stava pareggiando con il Club Italia e Segrate che comunque ha perso a Corigliano, voi eravate avanti 2-1, quindi si poteva sperare nella quinta posizione. La quinta posizione oltre a darvi comunque il vantaggio di giocare in casa e partendo con una partita vinta, però vi avrebbe visto contro Sora, che comunque è la vostra bestia nera. Oppure a Re arrivare anche Secondi sarebbe stata sempre Sora, Sesti scusate, però partendo loro con una partita vinta. A questo punto forse è meglio giocare con Città di Castello che siete voi la loro bestia nera visto i risultati di quest'anno? Insomma, diciamo che noi non abbiamo fatto grossi calcoli prima di giocare questa partita, però certo è che potendo scegliere sicuramente avremmo scelto, avremmo optato per Città di Castello più che Segrate e Sora, che probabilmente sono squadre che soffriamo un po' di più, visto che sono due squadre secondo me molto simili, con un servizio veramente ottimo e noi soffriamo abbastanza squadre di questo tipo. Invece Città di Castello è una squadra più tecnica. Un po' più come voi che batte, magari meno forte. Esatto, meno forte, ha fondamentali, altri fondamentali più forti. Sono una squadra molto più simile a noi, piuttosto forte a muro, una buona ricezione, una squadra abbastanza quadrata, un palleggiatore lineare, quindi sicuramente sulla carta dovrebbe essere una serie giocabile. Anche se ho visto voi, comunque dopo che il Fuma ha preso la guida della squadra, state forzando di più al servizio e anche forse il gioco al centro rispetto a quello che era all'inizio, cioè durante tutta la regular season prima dell'arrivo del Fuma. Sì, sicuramente siamo un po' più liberi mentalmente da schemi fissi, insomma, c'è chi si inizia a prendersi le sue responsabilità al servizio, chi può andare al servizio tirando senza problemi, insomma, le classiche competenze e chi non deve sbagliare assolutamente. Tu sei uno di quelli. Io sono assolutamente uno di quelli. Però con la tua jamflot metti sempre abbastanza in difficoltà. Ci proviamo, dai. Anche perché comunque oggi sono quasi tutti abituati a ricevere una battuta in salto e quando arriva una battuta jamflot si trovano ormai i ricettori un po'... Invece per quanto riguarda il gioco al centro credo che anche Giordano, insomma, sia stato liberato un po' da questi schemi fissi, insomma, giochi un po' più seguendo su istinto e quindi probabilmente abbiamo iniziato anche a variare un po' di più il gioco. E comunque c'è da registrare quattro partite vinte da quando Fuma è alla guida della squadra. Sono stati dieci punti su dodici a disposizione e quindi direi le ottime quattro giornate in vista dei playoff che fanno sempre morale. Stefano, invece per voi pausa pasquale. Vi siete rimessi un po' dalla partita con Ornavasso. Meno male che c'è stata questa pausa pasquale. Ecco, appunto, andiamo dentro quello che magari fuori dal tecnico ma più su quello che riguarda te, il tuo lavoro nelle Saugella. Di sicuro vi siete allenati, c'è stato un tipo di preparazione, un carico diverso visto la pausa e anche per andare a affrontare quelle che sono gli ultimi. Assolutamente sì, abbiamo fatto una doppia programmazione, una che prevedeva la fine del campionato con la regular season e una con eventuale altro mese in più per i playoff. Ecco, che sembra quasi certo, diciamo, speriamo, tutto può ancora succedere. Tutto può ancora succedere, certo, però abbiamo dovuto in questo momento, visto come è andata l'ultima partita, rivedere un po' la programmazione e anziché orientarci su un lavoro di mantenimento che ci consentisse di terminare il campionato normalmente, abbiamo lavorato su un altro ciclo di carico per arrivare magari adesso in queste ultime partite un po' più carichi ma pronti per fare un altro mese di partite molto importanti. Ecco, c'è il rischio che adesso le ragazze arrivano un po' pesanti alla partita di sabato? Diciamo che la pausa campionato non ci ha concesso pause di lavoro, siamo andati avanti a lavorare lo stesso e quindi atleticamente sono un po' più cariche, certo non è stato un lavoro devastante, però abbiamo dovuto farlo per affrontare poi il continuo. E visto che a quanto pare ci sarà un mese in più rispetto a quello che è il campionato. Adesso ci fermiamo un secondo per vedere le interviste a fine partita di Rafa e il coach Fumagalli, state con noi, ci ritroviamo qui alla fine delle interviste. A dopo! C'è stata una bella reazione da parte vostra dopo un primo set giocato forse un po' col freno a mano tirato? Non è con freno a mano tirato, però abbiamo discorso dei sole, che è molto diverso di giocare in giorno qua perché non riesce a vedere la palla in difesa, in tante cose, però dopo anche il discorso di giocarla, la garra per noi è stata un po' più pesante, però siamo riusciti a fare, no? Vedendo un po' quello che sono gli abbinamenti, era meglio scavalcare Segrata e incontrare Sora oppure rigiocare ancora contro Città di Castello? Io ti dico che per questo momento possiamo trovare queste squadre, per noi non cambia niente perché il livello qua è alto e quello che becca deve fare bene per forza perché se non ormai torna a casa e è finita. Per noi, secondo me, quello che viene, viene e facciamo il nostro meglio. Adesso un po' di riposo e poi pronti per la battaglia dei play-off. Sì, bravo. Una partita iniziata un po' anche per problematiche del sole, abbiamo sentito intervistando Raffa, poi dopo una grande reazione, si sperava forse una vittoria del 3-1, poi comunque c'è stata anche la risposta da parte di Città di Castello. Sì, il peccato è stato il quarto set con quella rotazione dove Visentin con quell'assalto float court ci ha messo in difficoltà. Ci siamo adattati con fatica e poi, insomma, Castello è una squadra che tatticamente è molto buona, quindi fa delle scelte ben precise, ha giocatori di esperienza e quindi, sì, il peccato è stato lì. Poi, devo dire, un bel tie-break, un bel tie-break. Quindi, alla fine per noi contava vincere perché per noi vincere è sempre importante, adesso ne abbiamo messe quattro, insomma, è un buon, diciamo, biglietto di ingresso per i play-off, insomma. Loro erano senza noda, noi comunque, insomma, abbiamo una rosa molto completa, quindi io l'ho detto ai ragazzi che a questo punto per noi la cosa importante è essere tutti pronti, essere disponibili, per noi può essere realmente una grande risorsa, quindi ce la giochiamo, devo dire, in maniera molto aperta. Secondo te, visto anche come sono andati i risultati durante la regular season, è forse meglio incontrare Città di Castello e non Sora che comunque è la bestia nera di che banca Milano? Guarda, allora, io adesso ho iniziato a impostare il lavoro con i ragazzi in maniera tale da poter giocare sia contro squadre che hanno una grande qualità al servizio come ad esempio Sora, sia contro squadre più tattiche come Città di Castello. I ragazzi, devo dire, che temevano di più Sora, perché è rimasto loro un po' il ricordo di quel 3-0 perso qui in casa in maniera così abbastanza impotente. Bisogna vedere, bisogna vedere Castello cosa farà con gli stranieri perché hanno le qualificazioni olimpiche, bisogna vedere tante cose, insomma. Io ai ragazzi avevo detto che per noi i play-off iniziavano da Santa Croce perché era da lì che bisognava vincere, adesso non contano due punti, tre punti, un punto, adesso conta solo quello e quindi devo dire che siamo arrivati a questo obiettivo. Adesso per noi non cambia niente, quindi giochiamo a viso aperto con tutti, insomma. L'ultima cosa, sei a 4 su 4, sei contento? Ah, moltissimo, moltissimo. Eccoci entrati in studio con Gabriele Rubbiati e Stefano Fumagalli. Job, andiamo subito a vedere quale sarà la partita, la prima che vi aspetta in casa, il 21, ricordiamo si giocherà in anticipo sabato 21 aprile, visto che poi il 22 ci sarà Milano e il V-Day, quindi per evitare di togliere troppa gente alla partita è meglio anticiparla il giorno prima. C'è da giocare, si parte comunque, come abbiamo detto, una partita vinta a Città di Castello, però voi giocate in casa quindi c'è da vincere per poi presentarsi subito al Palajon sul pareggio. Speriamo, insomma, sicuramente la prima partita sarà fondamentale, quella che giocheremo in casa, è la partita sulla quale dovremo puntare subito tutto e dalla quale si vedrà insomma come riusciremo ad approcciare questi playoff, insomma, andando a perdere subito la prima partita sarebbe una strada decisamente in salita, se non quasi impossibile, quindi sicuramente la prima partita bisogna cercare assolutamente di vincere in qualsiasi modo. Ecco, poi ricordiamo magari qual è la formula, voi adesso giocherete il 21, gara 2 in casa, poi eventuale, cioè no, senza eventuale, che sarebbe il gara 1? La gara 3 al Palajon di Città di Castello e poi se comunque vincete una delle due partite, eventuale gara 4 ancora a Milano, per poi l'eventuale gara 5 o la bella a Città di Castello. Quindi vi aspetta un bel andare da Città di Castello. Insomma, poteva anche andarci peggio, insomma, voglio dire. Speriamo poi... Se beccavamo Castellana... E forse era peggio, un bolfetto. Un bolfetto, esatto, insomma, tutto sommato, ovvio. Anche se a livello logistico forse è più facile arrivare in Puglia che in Ungria. Sì, forse sì, perché si prende l'aereo, invece andando in Ungria bisogna per forza prendere il pullman e quindi sono comunque sì a 6 ore di pullman. Stefano, invece, sabato giocate contro la Vigevano, che è quarto ultimo in classifica. Tu hai preparato tutte le ragazze, stanno tutte bene, facciamo gli scongiuri del caso, visto che mancano ancora dei giorni di allenamento, però... Stanno tutti bene, stiamo cercando di recuperare al meglio anche Esther Franco, che ha avuto dei piccoli problemi che si sono già manifestati a Ornavasso. Ci stiamo lavorando insieme al fisioterapista, speriamo di averle tutte a disposizione, anche se sulla carta Vigevano è una squadra che è alla portata, ecco, visto che sì, sta lottando per la non retrocessione e quindi verrà qua per portare a casa il miglior risultato possibile. Verso quando si arriva a questa fine stagione, quelle che hanno bisogno di puttere. Le ragazze fisicamente stanno bene, magari vanno un po' più spronate mentalmente, perché insomma la delusione c'è e quindi anche il lavoro è stato fatto in modo più faticoso, non tanto per il lavoro in sé, ma anche proprio per la condizione mentale in cui ci siamo ritrovati. Allora, l'appuntamento è sabato all'Elisa Sala per la partita delle Saugella, mentre voi riposo e quindi vi preparerete per sabato 21. Io vi faccio in bocca al lupo, Stefano, per la partita di sabato, bocca al lupo per i tuoi allenamenti e i play-off. Io vi ricordo la sintesi stasera alle 21 della partita contro la Garardi Svicida di Castello e l'appuntamento con l'angolo del vero volley sabato alle 18.30. Da parte mia è tutto e buon proseguimento con i nostri programmi.